buongiorno a tutti benvenuti a questa video analisi settimanale partiamo come al solito dall'eurodollaro dove si può vedere che continua la corsa diciamo di questo doppio massimo che abbiamo visto qui che è stato rotto a ribasso diciamo col superamento di 1.17 con il successivo pullback siamo arrivati più o meno in questa situazione poi la successiva rottura di 1.15 e 70 1.15 80 portato a un movimento che come vedete è andato a ricreare diciamo così una specie di congestione esattamente laddove la congestione si era già vista diciamo in precedenza cioè sulla salita che cosa aspettarsi allora che sopra quest'area che potremmo definire per comodità 1.14 il mercato potrebbe cambiare figura e tornare quindi a 1.15 70 step e poi chissà magari 1.17 mentre la rottura di 1.12 che sarebbe in realtà 1.11 90 insomma ribassi conclamati sotto i 1.12 darebbero là probabilmente ad aggiungere il target di questa figura che è posto più o meno in area 1.10 molto interessante però anche tecnicamente l'evoluzione grafica del cambio euro allora che dire invece del crude oil che dire delle materie prime il petrolio fa fatica arriva a 62 in realtà arriva a 62 5 appena sfiora il supporto c'è la reazione ma il ribasso è forte soprattutto ci ha portato sopra un'area quella dei 75 76 dollari sotto un'area che è un'area importante sopra quest'area c'è una storia del petrolio sotto ce n'è un'altra e questo rimbalzo attuale come vedete non ha molta forza per andare a tentare a rialzo di sfondare quel livello ce la farà non lo so però se tornerà sopra lo scenario sarà di un tipo sotto sarà sicuramente differente andiamo a vedere invece quello che è il vero scomparso il vero missing il vero non pervenuto dell'ultimo mese diciamo così oramai perché manca poco a fare un periodo di astinenza così lungo che è loro loro diciamo da almeno tre settimane praticamente non si muove più si è agganciato intorno a quell'area che ogni tanto lo vede ritornare così a celebrare i 1765 si va ad appoggiare lì ma non si muove attenzione perché sotto quell'area potrebbe stagliarsi di nuovo il raggiungimento dei 1680 che sono un supporto fondamentale sono il supporto di tutti gli ultimi due anni quindi attenzione dovesse mai arrivare a quel livello detto in ogni modo questo è un livello chiave perché da qui o si tenta la risalita sopra i 1.815 e poi 1.830 e poi chissà magari 1.865 e magari i 1910 così vi ho detto tutte le resistenze successive ma attenzione perché appunto insiste fortemente nel tornare sempre su quel supporto quindi attenzione perché il movimento dell'oro prima o poi arriverà passiamo così ad analizzare i mercati cominciamo da quegli americani dove si è assistito all'ennesimo tentativo diciamo così di andare a farsi un nuovo massimo da parte dell'esempio 500 che riesce che centra diciamo alla fine della settimana la più alta chiusura di sempre non il massimo non il record high cioè il massimo storico che qui intraday però la chiusura più alta va senz'altro a farla come si vede bene graficamente diciamo che l'esempio 500 ce la fa soprattutto perché ce la fanno alcuni particolari titoli lo ricordiamo che sono sempre di peso molto importanti anche se come vedete il nasdaq ancora diciamo così è indietro ancora deve dare seguito e concludere questo movimento interessante chissà se riuscirà a portarsi sopra questo livello che sono circa i 16.400 punti e poi staremo a vedere se mai andare a raggiungere quel livello superiore che il precedente massimo storico seppur intraday andiamo invece a vedere che cosa succede in europa perché se noi andiamo a guardare quello che succede sul dax cominciamo a farci delle idee un po diverse l'europa che sembrava impostata meglio in realtà reagisce con un po meno vigore alla situazione attuale perché perché l'esempio 500 è come se fosse qui e invece il dax continua a stare intorno ai 16.000 ai 15.500 che sono la mediana sono i prezzi di aprile li vedete qua ad aprile stava su questi livelli e continua a rimanere intorno a questi valori come ho detto curiosamente in settimana se alla maniera diciamo così di un famosissimo film noi chiedessimo un fiorino ogni volta che si passa dai 15.500 avremmo fatto molti soldi nel frattempo perché gli scavallamenti da una parte dall'altra sono stati frequentissimi detto questo diciamo che il movimento può estendersi deve trovare l'infa sopra i 16.000 per portare a un rinnovamento a ribasso attenzione sempre all'area di supporto dei 14.800 punti che abbiamo visto già più volte lavorare in passato andiamo invece a vedere quello che è l'indice più forse significativo possiamo dire del mercato europeo che è l'euro stop 50 che non riesce a chiudere la settimana sopra 4.250 punti che avrebbe voluto significare andare sopra questo importante livello di resistenza però mette a segno diciamo così nel periodo una serie di quattro minimi sono di più ma in realtà quattro minimi in sequenza riconducibili a un'unica trend line e tutti i fatti diciamo nella fascia estate autunno diciamo così che sono questi quattro minimi crescenti che vediamo bene qua quindi è un indice abbastanza in forma sta disegnando forse qualcosa che in futuro potrebbe somigliare un po' a un triangolo però quest'area 4.400 sembra ancora un po' troppo lontana per essere raggiunta a breve termine che cosa succede invece sul nostro FIB che cosa succede invece sulla borsa italiana beh succede che dopo aver rotto quella congestione forzata quel momento io io come l'ho definito in più occasioni legata al fatto che si stava contenuti tra i massimi e i minimi di questa mega candelone diciamo tracciata disegnata nel grafico qualche venerdì fa in realtà abbiamo rotto a rialzo e poi abbiamo fatto il cosiddetto pullback cioè con una seduta abbiamo quasi annullato il movimento poi due volte seppur tentando di muoverci verso l'alto siamo andati a fare il pullback da noi ci sono alcuni titoli fortissimi cito unicredito su tutti ma poi lo vedremo e ce ne sono altri che invece vanno un po' così così no e quindi in questo caso il listino ne soffre nel suo aggregato come si può ben vedere allora passiamoli a vedere questi titoli perché sul mercato italiano tra tutti si staglia unicredito questa settimana io vi ho pubblicato su telegram proprio il breakout dei 12 no quando stava per verificarsi e il movimento è stato poi talmente bello che graficamente è davvero eclatante allora diciamo qua divertiamoci nell'esercizio stilistico di identificare un probabile target di questa figura allora quando il titolo fa un movimento di questo genere bisogna pensare in grande e io credo che pensando in grande per unicredit sia questo il target che va a porsi quindi questo livello di prezzo che ha lavorato come doppia resistenza a partire dal 2018 ed è un prezzo che sta di poco sopra i 14 euro quindi sta in area 14 e 30 circa quindi secondo me questo è il target a cui ci si deve in qualche modo si deve aspirare dicevo prima come dire mettendo da parte come dire qualsiasi forma di umiltà da parte del titolo perché in qualche modo c'è un movimento molto forte supportato da volumi che come vediamo pochissime volte in passato hanno trovato come dire livelli simili quindi sono volumi in acquisto come mai non ce ne erano stati prima negli ultimi tre anni e quindi se è molto importante monitorare certo attenzione ai pullback attenzione ai movimenti di ritorno però questo ambizioso bisogna esserlo ambizioso in questo caso target per il titolo diventa interessante oggi vi faccio vedere qualche titolo come dire nel bene qualche titolo nel male quali titoli nel bene ve ne faccio vedere due il primo è interpump titolo che ha un trend rialzista molto bello molto importante come si vede in questo grafico se però vado a guardare il dettaglio mi accorgo che se questo titolo dovesse riuscire ad andare a fare chiusure diciamo sopra i 63,50 euro ecco allora che si staglierebbe qualcosa di particolarmente interessante sopra 63,50 euro in chiusura questo titolo potrebbe tornare ad ambire di tornare intorno all'area 68 cioè a ragionare sui precedenti massimi e quindi potrebbe avere un appena interessante l'altro titolo interessante a rialzo parto di credit che è fuori categoria come vi ho detto che vi faccio vedere questa settimana è è terna perché terna vedete qui ha fatto questo massimo non c'è più tornata sopra da settembre ha tentato due volte di avvicinarsi senza mai superarlo stiamo parlando dell'area malcontata 6,85 chiusure sopra 6,85 potrebbero essere propedeutiche a un ritorno chissà verso il precedente massimo relativo intorno a 7,20 quindi questo è un titolo che ha un certo appeal dal punto di vista grafico ce ne sono anche due che voglio invece mostrarvi perché il nostro destino non sta vedendo solo rialzi che sono importanti uno è il potenziale ahimè ulteriore breakout rialzista di ribassista di Saipem lo vedete qui perché movimenti di Saipem che dovessero portare sotto quest'area sono movimenti davvero dal potenziale pesante lo vedete bene disegnato qui e l'altro è Leonardo Leonardo si trova in un punto spartiacque potrebbe rimbalzare o trovare una situazione ulteriormente difficile perché perché guardate qui ha già fatto un paio di volte degli spike ribassisti chiudere la settimana seppur di poco sotto i 6 euro anche dal punto di vista come posso dire del del prezzo rotondo del cosiddetto round price come dicono gli americani no è una situazione che crea un po di difficoltà io però credo che diciamo ci voglia proprio un valore sotto questo minimo che vuol dire anche sotto tutta questa congestione del prezzo lo vedete qui ok se dovesse il mercato trovarsi sotto questo minimo sotto quest'area che andiamo a vederlo è intorno a 5 78 diciamo sotto 5 75 il titolo potrebbe poi trovarsi nella situazione di affondare magari anche sino a 5 e 42 5 43 quindi attenzione a movimenti che dovessero portare il titolo sotto 5 75 perché il contesto potrebbe essere piuttosto complicato passiamo invece ad alcuni titoli americani e voglio farvi rivedere da questo punto di vista perché sono interessanti questo è afl afl un titolo che ha davvero un bel grafico un bel grafico accattivante dopo una congestione che è durata diciamo per buona parte del 2021 sta sfondando la parte alta diciamo veramente il breakout in chiusura lo ha già fatto quindi attenzione questo è un titolo davvero interessante stiamo a vedere che cosa ci riserverà nei prossimi giorni andiamo a vedere altri titoli che sono interessanti perché diciamo così possono essere davvero presi in considerazione abbiamo questo da naer che secondo me è un titolo interessante perché ha del potenziale per poter raggiungere quest'area 330 che è un livello molto forte ma che funziona si è portato ultimamente al di sopra di quest'area intermedia quindi ci può stare non dico tanto il breakout l'attesa del breakout ma l'attesa di un movimento che magari potrebbe accompagnarlo verso quel livello quindi potrebbe essere qualcosa di particolarmente particolarmente interessante diciamo anche che c'è qualche titolo magari non così grande come quelli che noi potremmo aspettarci di trovare quindi qualche titolo interessante come questo lo vedete che si chiama pcrx e che ha del potenziale perché perché viene da una discesa importante lo vediamo qua ok diciamo che a un certo punto questa discesa è diventata la ricerca di un'accettazione del prezzo si è creata un'aria intermedia ha avuto anche uno scivolone sotto ma è tornato sopra adesso ha la possibilità di andare a invertire ogni tipo di trend se dovesse tornare sopra 60 dollari quindi sopra 60 dollari questo è un titolo che può tornare interessante perché avrebbe metabolizzato e avrebbe come dire sarebbe uscito dalle secche di un ribasso questo per dire che non sempre si va a puntare titoli forti ma un titolo forte c'è qui ed è ford che dà un segnale fortissimo volumi importanti come minimo importanti pennant e poi quindi asta e poi bandiera e bandiera rotta rialzo un grafico da manuale quindi il breakout è stato nella seduta di venerdì ma attenzione questo titolo potrebbe magari regalare ancora perché questo è un grafico di quelli belli di quelli tostic e con questo vi lascio per questa settimana ciao a tutti alla prossima